ciao ciao no, l'ha visto? come stai? come stai? come stai? fame? come stai? come stai? come stai? come stai? che nera nerissima hai visto anche i suoi occhi? che pesante ciao mangiamo? cosa hai mangiato? hai mangiato tanto tanto ahia le unghie non te l'ha mai tagliate nessuno quanto hai mangiato? di la verità ah ah ah